Il paesaggio è un concetto dinamico, il non finito calabrese è ormai paesaggio in Calabria. La categoria del non finito andrebbe criticata profondamente nel suo interno, c'è una parte da salvare, una parte da tenerla così com'è. Cosa vogliamo fare? L'estetica, l'etica, che domande si pongono? Non c'è etica senza estetica, penso che sia un pilastro. L'ethos, che è il problema grande del non finito, va superato. Abbiamo dei non finiti che possono diventare ambienti mediali. Quindi la domanda che ci poniamo qual è? Cos'è bello? Cos'è brutto? Come percepiamo il bello? Come percepiamo il brutto? E soprattutto che dobbiamo fare dinanzi al bello o dinanzi al, tra virgolette, brutto? Grazie a tutti. Grazie a tutti.